E' stato nuovamente sentito in questura uno dei due personaggi piacentini che si sono accusati del furto del ritratto di signora di Klimt, ritrovato a fine 2019 e riconosciuto come autentico nel TGL la suggestiva foto del capolavoro nella sala biliardo di casa Riccioddi. La pioggia del fine settimana ha ripulito l'aria di città e provincia, l'inquinamento è tornato sotto la soglia di allerta e da domani non saranno più in vigore i blocchi emergenziali al traffico, restano però quelli ordinari. Molto caldo e molto piovoso, dal punto di vista climatico il 2019 è stato uno degli anni più intensi dal 1951 ad oggi. Un campo scuola dedicato agli studenti delle medie tra i 10 e i 14 anni, l'idea è stata lanciata dalla sezione Alpini di Piacenza e si concretizzerà il 3, 4 e 5 luglio del 2020. Nel posticipo di questa sera del campionato di Serie C il Piacenza alle 20.45 ospita la Triestina, una vittoria consentirebbe di agganciare il quinto posto, ieri vittoria per Gas Sales, Bakery Basket e sconfitta per l'Assigieco. I servizi nel TGL Sport alle 20.15 ritorna a zona calcio.